Film club di Bolzano non poteva essere scelta migliore per presentare la nuova iniziativa firmata Euregio. Di un filmato si tratta ed ecco perché l'ambientazione è quella di un cinema. Un filmato dedicato alla sicurezza sulle piste da sci e sugli impianti di risalita. Un filmato realizzato in forma bilingue con un target ben preciso. I ragazzi, che sempre più numerosi, trascorrono il tempo libero sulle piste da sci della provincia di Bolzano, della provincia di Trento e del vicino Tirolo. Luis Dornwalder, presidente Euregio, ha fatto gli onori di casa presentando i dettagli dell'iniziativa. Dico che siamo un regio dove si inseriscono tre regioni un po' diverse per lingue, però anche per realtà, Trentino, Tirolo, Bundesland-Tirol, però abbiamo certi problemi in comune. Io dico che il compito di questo Euregio è risolvere insieme queste difficoltà che abbiamo insieme e proprio la sicurezza sulle piste è un problema che tocca sia il Trentino come anche l'Alto Ares su Tirolo e anche il Bundesland-Tirolo. Perciò facciamo bene di farlo insieme, di presentarlo insieme, di lavorarlo insieme, di coinvolgere le esperienze di tutte queste tre regioni per fare poi un film che contiene non solo belle immagini ma anche la realtà, anche i problemi veri perché sono problemi che vengono su suggerimento di associazioni, di comitati, di persone tecniche che hanno una certa esperienza in merito. Perciò abbiamo fatto questo film e lo vogliamo anche pubblicarlo e farlo vedere insieme. Il filmato vuole trasmettere un messaggio chiaro e preciso agli appassionati di sci e snowboard con una fascia d'età compresa tra gli 8 e i 14 anni. Ovviamente gli spunti per gli adulti non mancano. Un progetto che vede il coinvolgimento di più soggetti ed enti, tutti uniti dalla passione per gli sport invernali. Il concetto di sicurezza sulle piste da sci e degli impianti di salita per l'Oreggio è molto importante, vista che la realtà delle tre province è molto molto simile, anche se i regolamenti sono un po' diversi. Abbiamo creato un gruppo di lavoro di membri dell'Oreggio che hanno dato le informazioni utili, gli inputs per la produzione di questo film. Quando si parla di sicurezza sulle piste da sci il pensiero va ai professionisti, soprattutto delle specialità più veloci. E allora quali testimoni al migliori di due portavandiera dello sport altoatesino nel mondo? È molto importante perché ci sono degli atleti che fanno le gare, che si allenano tutti i giorni per evitare anche infortuni. Diciamo che ci sono poi sciatori che non hanno tutto questo tempo per prepararsi, anche per raccogliere esperienza, per cui secondo me anche questo film dell'Oreggio è molto importante perché dà delle informazioni molto semplici che però garantiscono di sciare in sicurezza, di sapere le regole base senza dover porre dei divieti, però fanno in modo che ognuno si possa un po' assumere le proprie responsabilità e divertirsi soprattutto di più. È molto importante perché si diverte di più, tutti si divertono di più, se ognuno va scia sicuro e va con lo snowboard in modo sicuro, con un casco e con un po' di riscaldamento, quindi se ognuno sa cosa deve fare, per ogni persona è più divertente.